Sono Laura Rocchitelli, presidente di Rold. Rold è un'azienda manifatturiera, una tipica media azienda italiana che è sul mercato da circa 50 anni e che produce componenti per il settore degli elettrodomestici. Rold ha fatto dell'innovazione della tecnologia il suo fattore vincente, tanto è vero che oggi è uno dei fornitori strategici per la maggior parte dei produttori di elettrodomestici a livello internazionale. Oggi si parla molto di industry 4.0. Credo che le aziende manifatturiere debbano assolutamente giocare un ruolo attivo in questo processo di rivoluzione industriale e non subirla. Digital manufacturing non è qualcosa che è solo per le grandi aziende, non si deve identificare solo con robotica o con stampa 3D, ma è qualcosa alla portata di tutti. Rold ha avviato questo processo di trasformazione digitale creando la piattaforma Rold Smart Fab in collaborazione con Samsung. In Samsung ha trovato un partner ideale sia per le tecnologie che può mettere a disposizione sia per l'approccio estremamente collaborativo. Con questa piattaforma Rold Smart Fab si vuole appunto raggiungere il più grande numero di aziende possibili, anche quelle più piccole che hanno come necessità quella di raccogliere informazioni, di renderle disponibili in modo tempestivo e con dispositivi alla portata di tutti. Sono Roberto Colombo, responsabile produzione in Rold. La nostra è un'azienda verticale con impianti di assemblaggio complessi e customizzati, quasi sartoriali, per cui la parola d'ordine per controllare le informazioni è solo una, semplicità. Siamo stati i primi fruitori del sistema Smart Fab come clienti interni, per questo abbiamo potuto anche velocizzarne lo sviluppo fianco a fianco con gli ingegneri. L'ambito manufacturing rende necessario in ogni turno poter accedere alle informazioni in modo semplice e immediato dovunque. Il miglior alleato di chi è responsabile di produzione è il dato in real time. Infatti, lungo le linee di produzione abbiamo installato soluzioni Smart Signage per il controllo e l'analisi dei flussi. Questi monitor Samsung ci garantiscono anche un'operatività di 24 ore al giorno e sono pannelli touch con dentro l'idea Smart Fab, così il dato è disponibile alle persone a cui interessa e nel momento in cui gli serve. Con il sistema Smart Fab sui device Samsung, l'idea è di aumentare l'efficienza degli impianti e la serenità dell'operatore, poter intervenire just in time con le persone giuste e dunque aumentare qualità, rendimento, disponibilità dell'impianto e aggiungo io soddisfazione dei nostri team di lavoro. Sono Paolo Barbatelli, responsabile dei progetti di innovazione e ricerca del gruppo Rolg. È possibile gestire il mondo manifatturiero con la tecnologia che usiamo tutti i giorni? La risposta è sì. Abbiamo trovato nella tecnologia Samsung un validissimo supporto per sviluppare le nostre soluzioni. Quale sistema migliore di portarsela addosso alla produzione, di averla sempre con sé? Questo ce lo permette il Gear S2, uno smartwatch che può essere indossato e che può gestire direttamente, grazie alle nostre applicazioni, tutti gli allarmi e il sistema informativo legato alle macchine in produzione. I nostri colleghi sono in grado di gestire le chiamate direttamente, di visualizzare i codici di errore e i problemi che si verificano sulla linea e i loro responsabili sono avvertiti in modalità interattiva e real time di quello che sta accadendo. Questo ci consente di essere più reattivi, di dare maggiore servizio al cliente ed in definitiva di sviluppare più business. Un'ulteriore opportunità di migliorare il nostro mondo manifatturiero ci viene offerta dalla realtà aumentata. La tecnologia Samsung Gear VR VR ci permette di dare un ausilio importante ai nostri colleghi che lavorano al controllo qualità. Oggi abbiamo la possibilità di visualizzare i nostri prodotti e di smontarli senza avere la necessità di farlo fisicamente, garantendo un'interazione decisamente più veloce e la possibilità di offrire un maggior livello di servizio ai nostri clienti. Migliorare le competenze e collaborare, questo è un tema fondamentale nei nostri ambiti produttivi. Grazie alla tecnologia Samsung Eboard siamo in grado di interagire con i nostri collaboratori e creare gli stand-up meeting che sono un elemento tipico della nostra settimana o della giornata lavorativa. Delle riunioni molto rapide, molto smart, che vengono realizzate davanti a una lavagna interattiva che consente un livello di collaborazione estremamente elevato perché può visualizzare contenuti multimediali, può essere utilizzata come una lavagna tradizionale e interagire con il nostro sistema di controllo e gestione della produzione, Roald Smart Fab. L'eboard di Samsung in questo è assolutamente vincente perché garantisce un prodotto con un elevatissimo livello di interazione ma con un'usabilità vicina a quella di tutti i giorni a cui siamo abituati. Roald è in costante crescita e sviluppo. Continuiamo in periodici investimenti in asset e nuove tecnologie come appunto Roald Smart Fab. Samsung grazie al suo ecosistema di prodotti, affidabilità e semplicità di utilizzo è stata la scelta giusta per continuare verso i nostri obiettivi. Noi di Roald insieme a Samsung pensiamo di aver dimostrato che la tecnologia abbinata ad un pizzico di fantasia ci abbia permesso di arrivare lontano e prima degli altri.